Che è l'Emiliano, governatore della regione Puglia, salve Emiliano, ben trovato, che peraltro secondo tutti, Emiliano, qua a Roma, qua a Roma sono pettegoli, non sono seri come in Puglia, lei era la tessera numero uno del partito di Conte, Contiano di Ferro. Dopo mi deve dire come sta vivendo questo arrivo di Draghi con tutti felici e contenti, non è vero? No, assolutamente non è vero, perché io ovviamente sono un militante del PD, sia pure in una forma, diciamo così, determinata dal CSM, che sostiene che io posso essere il capo politico della Puglia, secondo il CSM, ma non posso avere una tesserina del partito, è una teoria molto particolare, però devo accettarla perché le regole si osservano, non si commentano. Ecco, va bene, arrivo da lei fra un momento, perché invece nel frattempo...